ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi come potete vedere ci andremo ad aprire un po di pacchetti sono i pacchetti che mi sono arrivati in questa seconda parte del mese di ottobre in questo video ce ne andremo ad aprire tutti insieme nel nostro classico mail day prima di partire però con lo spacchettamento io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto attivare la campanella e soprattutto schiacciate un bel like a questo video e detto questo ragazzi questi sono i pacchetti che mi sono rimasti in questo periodo perché come sempre la maggior parte di quello che mi arriva io lo apro anche perché cerco di dare i feedback ai venditori e anche ovviamente alle persone con cui scambio allora direi di partire subito con il primo pacchettino andiamo a vedere che cos'è allora abbiamo iniziato ad aprire questo pacchetto e questa è una parte di quello che vedremo eccolo qui ce l'abbiamo fatta siamo riusciti ad aprire questo pacchettino e questo è una parte di quello che vedremo in questo video eccoli qua allora mi sono arrivati questi due pacchetti sigillati sono coppa d'africa coppa d'africa 2008 e 2010 e tra un po' andiamo a capire anche perché ho ordinato questi due pacchetti che mi mancavano proseguiamo con un altro bel pacchetto e andiamo a vedere qui che cosa c'è allora togliamo l'indirizzo del venditore questo è molto interessante ed eccoci qua abbiamo recuperato le nostre carte come potete vedere sono le carte match attacks di questa stagione e più precisamente sono le carte della first edition ovvero l'edizione che è uscita a inizio ad agosto nella versione eccola qui first edition tutto il set completo sono 88 le carte first edition e io le ho prese interamente col set completo ecco qua le carte dell'inter della juve tutte sotto sopra ovviamente eccole qui tutte segnate come carte first edition questo è un set non semplicissimo da trovare io ho avuto un'offerta molto ma molto buona le ho pagate circa 25 euro set completo e le ho portate subito a casa allora andiamoci a vedere qualche carta interessante magari tutte first edition ci dovrebbe essere anche la carta eccola qui eccola qui di holland finisher first edition poi ci sono altri giocatori martinelli sono tutte carte 88 ne sono first edition quindi veramente molto bene perché nei pack multi nel multi pack first edition si trovava un solo pacchetto con queste carte con sole sei carte in ogni multi pack che costava anche non poco mi sembra 4 euro e 99 euro 5 euro e 99 e per trovarle tutte beh quindi bisognava o bisogna comunque ancora perché sono ancora in venta spendere un po di soldi quindi per 25 euro questo lotto e non dico regalato ma è veramente veramente un ottimo prezzo eccole qua continuiamo con il borussia abbiamo a dei emi e poi l'ultimo lotto sono 22 carte in ogni pacchetto ne hanno spediti divisi in quattro pacchetti andiamo se riusciamo ad aprire ed ecco qua le ultime carte di questo lotto ci sono tutte le squadre un po' separate ne sono uscite uno due tre quattro giocatori massimo per team ed eccole qua tutte e 88 le carte first edition e a questo punto direi di fare leggermente spazio perché ci andiamo ad aprire il pacco più interessante per me di questo spacchettamento ed eccolo qui ragazzi questo lo dobbiamo spacchettare per bene vediamo ben due set da questo lato e da quest'altro ci sono ben due album e allora ragazzi ci siamo eccoli qui l'album africa cup 2008 e africa cup 2009 e ci sono i set di figurine completi andiamoci a vedere un pochino ragazzi questo album è imbarazzante 2008 questa è una copia gratuita 32 pagine con tutte le squadre che hanno partecipato in quell'anno alla coppa d'africa 2010 è un album un po più decente ma sono sempre album da 32 pagine e questa però almeno non è una copia gratuita mentre questa si andiamoci a vedere le figurine guardate qua queste sono di africa 2008 sono veramente micro sono delle figurine minuscole ce andiamo ad aprire ed ecco qui ragazzi le figurine 2008 vi faccio vedere guardate qui minuscole vi faccio vedere una carta match attacks sono esattamente la metà della grandezza di delle carte attuali e per esempio questa è la nigeria eccola qui e ho visto già prima anche obafemi maier martins gli stemmi così senza senza niente la squadra andiamo giusto a vedere come sono fatte la namibia poi andiamo che cos'è questa la guinea il ghana abbiamo visto un montari come si chiama questo ping pong un buateng sulle montari qualcuno almeno di conosciuto e poi le prime figurine con il logo con tutte le bandiere ecco qui la classica figurina panini e lo stemma africa cup 2008 quindi queste sono le figurine le prime 100 abbiamo visto e andiamo a vedere anche apriamo un pacchettino delle figurine di coppa d'africa 2010 sono nella stessa grandezza andiamo a vedere come erano fatte ed eccoci qui anche qui la classica figurina panini logo africa cup 2010 tutte le squadre partecipanti e da questo lato praticamente sono uguali cambia praticamente il bordo stavolta è bianco un po' più neutro ma per il resto la collezione è praticamente identica qui cambiano anche i bordi a secondo se sono difensori centrocampisti o attaccanti qua vediamo il marocco di conosciuto non c'era nessuno gabon anche qui nessuno che io ricordi poi c'è la solita nigeria ancora oby michael obodo obafemi martins anche qui e altri che io non conosco poi c'era la tunisia ma va bene così e a questo punto andiamo a ripescare eccoli qui i pacchetti i pacchetti sigillati con le figurine all'interno ed è per questo che vi dicevo la prima parte l'abbiamo spacchettata subito poi è arrivato anche l'album con la raccolta completa di figurine di entrambi gli album ecco gli album della coppa d'africa 2008 2010 termina qua questo video però prima di salutarvi io come sempre vi ricordo l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e detto questo con tutte queste belle carte figurine panini tops da lancire e tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao